Interruzione della corrente elettrica per tutta la nottata e parte della mattinata per abitazioni e negozi nel perimetro compreso tra via Nino Bixio e via Magalotti a Fano. Colpevole di questo blackout un trasformatore è andato in avaria nella cabina Enel che serve la zona proprio in via Nino Bixio. La corrente è andata via una prima volta verso le 2 della scorsa notte. La squadra di pronto intervento dell'Enel è subito entrata in azione e ha tamponato il guasto ma il trasformatore da due quintali ha funzionato per tre ore e poi ha esalato l'ultimo respiro lasciando alle 5 di mattina nuovamente tutti al buio compresa anche la scuola Corridoni dove erano attesi per le 8 di mattina centinaia e centinaia di alunni. Enel ha iniziato subito le operazioni necessarie per la sostituzione del grosso pezzo e va da sé che non è proprio come sostituire una lampadina nella cucina di casa e quindi mattinata iniziata al buio per negozi, rivendite di tabacchi, ambulatori medici e farmacia compresa. E' una mattinata un pochino caotica comunque ecco ci siamo date da fare lo stesso e comunque il problema è stato risolto in breve tempo per fortuna pensavamo un pochino ecco comunque è andato tutto bene. Siete riusciti a servire l'utenza nonostante tutto? Diciamo di sì quindi siamo contenti lo stesso insomma ecco alla fine nonostante tutto. Da stamattina guarda io sono qua nel tabacchi ma è tutto spento quindi praticamente è impossibile far tutto. Da stamattina così? Esatto sì da stamattina siamo arrivati alle 8 e quindi non si può fare niente non è colpa di nessuno per carità però sai è un bel disagio insomma. Alle 10 e 30 dopo diverse ore di lavoro delle squadre un nuovo trasformatore del peso di due quintali è stato attivato nella cabina ridando corrente all'intera zona e anche alla scuola dove i 400 studenti e il personale scolastico ha dovuto fronteggiare questo imprevisto. Loro non hanno detto di venirli a prendere logicamente hanno detto che non c'era la luce e quindi automaticamente non c'era. Avete pensato di venirli? Sì perché se avevano freddo e invece è ritornata. Ritornata. Diverse famiglie hanno quindi scelto di portare a casa gli alunni, altre invece viste le temperature non troppo rigide hanno optato per lasciarli a scuola dove è stato comunque garantito poi durante la giornata il servizio di mensa scolastica.